Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a preparare la pizza romana fatta con la bica. Una ricetta veramente spettacolare, quindi vi invito a guardare tutto quanto il video. E non preoccupatevi se è un pochino laboriosa, però comunque è una ricetta che sicuramente dà grandissime soddisfazioni. Vi ricordo che potete seguirmi su Facebook, dove mi trovate con La Cucina di Maria, mentre su Instagram sono La Cucina di Maria Official. E se vi fa vi aspetto anche sul mio gruppo di ricette, condividi le tue ricette con Maria. Vi ricordo di attivare la campanellina in modo tale che comunque vi potranno poi arrivare tutti quanti i video che pubblicherò. Vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! 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 ! Ciao a tutti! ! 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